Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Mirta Merlino senza pace, nuove brutte notizie per la conduttrice. A riportare l'indiscrezione è stato D'Agospia che svela cosa succede dietro le quinte e perché alla fine, ad andarsene, potrebbe essere proprio lei. Secondo altre fonti l'addio sarebbe addirittura imminente o, comunque, potrebbe avvenire in tempi brevi con il timone di pomeriggio 5 affidato, a quel punto, ad altri che non sarà comunque Barbara d'Urso con la quale la frattura è ormai insanabile. Il giornale di Roberto D'Agostino parla di una Merlino per nulla serena e felice per la piega presa dalla sua avventura a Mediaset, parlando di clima pesante, in quanto la giornalista e conduttrice lavorerebbe costantemente sotto commissariamento. In altre parole, ogni suo passo sarebbe attentamente monitorato dal gruppo interno aziendale Videonews, quello di cui tanto si vantava la D'Urso, capitano da Siria Magri. Una situazione che la Merlino, abituata alla Sette con molti più margini di manovra e parecchia autonomia, non apprezzerebbe. Una decisione che potrebbe spingerla a lasciare. Grazie. Grazie.